Sapere dove le spoglie mortali, i resti di queste persone sono sepolti per consentire alle mogli, ai mariti, ai figli, ai nipoti, per consentire a queste persone di poter portare almeno una volta all'anno un fiore sulla loro tomba. Sono passati 70 anni dagli eventi causati dalla presenza delle forze jugoslave nella Venezia Giulia con centinaia di persone scomparse nelle foibe del cascio triestile goriziano. Lo ha ricordato stamanna Svedia Trieste il consigliere regionale Rodolfo Ziberna, il quale ha evidenziato l'iniziativa promossa per domani in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Trieste e a Gorizia da Forza Italia insieme all'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e dalla Lega Nazionale per richiedere se è fatta finalmente luce su quel tragico periodo. È legittimo che una persona chieda la verità, ci mancherebbe altro sul caso Regeni, ma è altrettanto legittimo che il Paese chieda la verità sui casi Crovating e Alpi. È altrettanto legittimo che il Paese e le istituzioni chieda la verità di cui io mi riferisco ai goriziani. Oltre 650, non 2, 3, 4, 5, ma anche fossero stati 2, 3, 4, 5. Oltre 650 sono stati i goriziani deportati a guerra finita, cioè ormai senza alcuna responsabilità a coinvolgimento nei fatti d'arme, nei fatti di guerra. Questi oltre 650 goriziani sono stati sottratti dai titini che hanno occupato in quei oltre 40 giorni di occupazione titina appunto della nostra città, quei famosi 40 giorni di terrore. Questi oltre 650 goriziani non hanno più fatto ritorno presso le loro famiglie. La loro unica, grande, grandissima, gravissima responsabilità era quella di essere, di rappresentare un ostacolo per le verità annessionistiche, perciò di occupazione del maresciallo Tito. Questo noi chiediamo null'altro, non vogliamo, ripeto, patiboli e non vogliamo tribunali. Chiediamo soltanto questo. Constatiamo però come i morti di serie A e di serie B esistono e come.